Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. È l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione delle regioni e denti locali. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca, attualmente solo la Sardegna. Le nuove misure restrittive anti-covid all'esame del governo saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge, secondo quanto trapela dalle riunioni del ministro degli enti locali. Attese novità anche per i colori delle regioni sono previste infatti dei nuovi declassamenti, mentre la Campania dovrebbe rimanere in zona rossa anche nella prossima settimana. I numeri del contagio restano stabili ma alti sia a livello nazionale che regionale. A preoccupare nella nostra regione è il nuovo aumento dei ricoveri e dei posti in terapia intensiva registrato nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi. Nel Vesuviano inizia a calare il numero di positivi al covid-19. A Torre del Greco, nella giornata di ieri, sono 17 nuovi casi di positivi registrati su 116 tamponi effettuati, tutti in isolamento domiciliare a fronte delle 27 nuove guarigioni. Con un tasso positivi tamponi che si attesta quindi al 14,65%. Si registra inoltre il passaggio di un soggetto dal regime domiciliare a quello ospedaliero. A Torre annunziata i tamponi processati sono 154, di cui solo 17 sono risultati positivi, con un indice pari all'11%. Registrate anche sei nuovi guarigioni. Ad oggi i cittadini o plontini positivi sono 602. Resta delicata invece la situazione a Castellammare di Stabbia, dove il tasso di tamponi positivi ad oggi si attesta al 18,4%. Nella giornata di ieri, infatti, i tamponi effettuati sono 346, di cui 64 risultati positivi. Degne di nota anche le 59 guarigioni, con la soglia dei positivi in città che resta però alta, ad oggi 2.475. A Ercolano Ciro Bonaiuto fa sapere attraverso i suoi social che i casi di positività in città sono 541. Nel corso della diretta tenuta ieri sera ha invitato i propri cittadini ad un maggior senso di responsabilità. La gente tra le strade è ancora troppa. Dovreste capire che il covid è ancora pericoloso e può attaccare anche tre persone che parlano intorno a un motorino. Queste le parole del primo cittadino che chiama la popolazione ercolanese a cautela e attenzione. Grazie.